Ebba Guerra a Teramo sul regolamento deliberato a maggioranza in consiglio che disciplina i criteri per le nomine dei rappresentanti del comune nei CDA di aziende, enti e istituzioni. È un regolamento senza regole secondo gli esponenti dell'opposizione, un provvedimento che lascia ampi margini di discrezionalità al sindaco, in barba a ogni tipo di controllo o vigilanza. E oggi è pronta la risposta del primo cittadino. Opposizione distratta, dichiara il sindaco Brucchi, il regolamento è lo stesso da dieci anni. Io posso capire il Movimento 5 Stelle, posso capire Gianluca Pomante, non capisco il Partito Democratico. Stanno facendo una polemica strumentale e stucchevole sulle nomine della TEAM, non ricordandosi, oppure se lo ricordano ma fanno finta di non ricordarlo, che questo regolamento, il regolamento approvato la settimana scorsa in consiglio comunale, vige da dieci anni, cioè vige da due legislature. Siccome loro sono dieci anni che stanno all'opposizione e sono dieci anni che esiste questo regolamento, io ritengo che fanno finta di non ricordare, perché non posso pensare che non lo ricordano. Tra l'altro questo regolamento è un regolamento che è nel pieno rispetto della legge, adeguato con alcune norme, tipo la norma Severino sulle incompatibilità. Sul resto dà mandato al sindaco di fare nomine attraverso dei curricula o comunque anche al di fuori dei curricula, perché ho spiegato in consiglio comunale che in alcune situazioni è successo che su nomine meno importanti nessuno presentava il curriculum e che quindi in qualche modo il sindaco qualcuno doveva pur nominare in questi enti, sempre nell'unico obiettivo del pubblico interesse e del bene comune che ha segnato la mia attività politica da quando l'ho iniziata. Quindi sono polemiche davvero stucchevoli, polemiche strumentali, non sono questi i reali problemi dei cittadini terramani e i reali problemi della città, i problemi sono altri, questo è soltanto voler pensare a delle poltrone. Per quanto riguarda invece la tema e la trasparenza, esiste un bilancio, esistono tutta una situazione, un consigliere può fare accesso agli atti, cioè non ci sono di questi problemi, ripeto, non si vuole ogni volta andare a cercare situazioni che poi di fatto non portano a nulla.